Grazie di essere qui anche per questo secondo appuntamento di Valvitiano Incontri, questa lunga riflessione su quello che stiamo vivendo, su questa pandemia che ha sconvolto le nostre vite e il mondo e quindi vi ringrazio molto di essere qui. Dunque, Alessandro Baricco è un grande scrittore, molto amato, molto letto, molto conosciuto, ma io non voglio dire nulla su questo, oltre che prima di tutto ringraziarlo moltissimo per aver accettato di essere qui stasera. Voglio dire qualche cosa sulla sua capacità di leggere il tempo che si vive in un modo che è sempre assolutamente sorprendente, insolito, profondo, straordinariamente interessante. Nell'ultima riunione, non so chi di voi c'era nell'ultimo incontro, l'Arcivescovo Fisica ha sottolineato lo smarrimento della generazione non digitale di fronte all'enorme rivoluzione che ha comportato l'arrivo del web e l'arrivo di tutti quei mezzi che noi usiamo, ma che non sono la nostra vita. Lui ha usato questa espressione bellissima, il mondo di oggi, inc et nunc, e noi siamo persone che contestualizzano, quindi siamo smarriti di fronte a quello che in un certo senso la rivoluzione digitale ha comportato. Io mi ricordo che nel 2018, quando uscì un libro di Alessandro che si chiamava The Game, che io suggerisco sempre a tutti di leggere, mi si è come aperto una specie di porta di comprensione sulla nostra epoca, su quello che stavamo vivendo, e in un certo senso questo mi ha dato anche una certa rassicurazione, perché mi ha dato degli strumenti per capire. Quindi io sono certa che il suo sguardo su questa pandemia, il suo sguardo su quello che è successo durante e dopo questa pandemia, sarà uno sguardo che ci arricchisce e che ci dà dei motivi di pensiero alti e importanti. Quindi lo ringrazio particolarmente per essere qui stasera. Gloria Campaner. Io ho conosciuto Gloria Campaner molto tempo fa. È una musicista, come posso definirti, fantasiosa, qualche volta eccentrica, che è una musica straordinariamente attiva in modo anche trasversale nel mondo della musica e dello spettacolo, ma soprattutto ha un grandissimo talento, veramente un grandissimo talento. E io so che allo studio di questa meravigliosa pagina della musica, che sono i 24 preludi di Chopin, ha dedicato moltissimo tempo, producendo peraltro un disco meraviglioso. E quindi io credo che quello che lei regalerà stasera sarà un concerto veramente straordinario. Quindi la ringrazio molto per essere qui stasera. Adesso lascio a Gabriella Meccucci, che ringrazio di essere, così diciamo, la direzione di questi incontri di Valvitiano, la presentazione di questa serata e di Alessandro Baricco e del suo, peraltro, nuovo libro su questa pandemia. Grazie. Lo farò molto brevemente per non consumare tempo a Baricco, che anch'io vorrei sentire come tutti voi. Baricco ha scritto un prezioso libricino, piccolo, ma prezioso veramente. Ed è un libro che ha una serie di originalità. Intanto è molto originale la chiave di lettura che propone della pandemia. È assolutamente nuova e fuori, per fortuna, da tutti i circuiti dei talk show. E questo già è un merito indiscutibile. Il libro è originale anche per come si presenta nella forma. È una chiave espressiva e narrativa nuova, perché questo libro, prima di diventare un libro cartaceo e di essere presentato sotto forma di e-book, si poteva leggere online gratuitamente. E quindi è un modo diverso, nuovo, di esprimersi da parte, peraltro di un romanziere. E un romanziere, in genere, fa pensare ai romanzi del Novecento, che Baricco critica severamente. E quindi anche la forma in cui si presenta questo libro, lo ripeto, è molto originale ed è appunto un modo di reinventare la narrazione, che rende Baricco uno degli intellettuali, dei letterati, che meglio si sono confrontati, lui è uno davvero dei pochissimi, sono confrontati con la rivoluzione digitale e con il game, ed è inutile che citi il fatto che ha scritto un libro bellissimo dal titolo The Game. Quindi dette tutte queste novità, dirò che questo libro cerca di rispondere a una domanda. che cos'è la pandemia? E dà una risposta. Io leggo solo alcune battute, e poi questo ce lo spiegherà lui naturalmente. È una creatura mitica, dice Baricco. E dire che è una creatura mitica significa sapere, leggo testualmente, con certezza che una quantità enorme di decisioni, molto reali, la resa possibile. Poi quasi invocata, poi generata definitivamente, assemblandola con un numero infinito di piccoli e grandi comportamenti pratici. Questa è la prima, mi pare, definizione che si legge nel libro, e poi lui ci spiegherà e ci racconterà meglio, diciamo, la sua analisi. Ma un'ultima cosa, se permette Baricco, gliela vorrei chiedere da giornalista, se mi è consentito. Lei ha fatto una dichiarazione molto critica, severamente critica, sulla DAD, sull'insegnamento, sull'insegnamento, diciamo, che è stato dovuto anche alla pandemia, è venuto fuori a causa della pandemia. Lei della DAD ha detto che è la cosa peggiore che siamo riusciti a produrre. E questo giudizio piuttosto severo, direi, che viene dato sulla DAD, mi pare che si allarghi un po' anche in generale alla scuola, insomma, no? Di cui, cito un'ultima frase e poi mi taccio, di cui Baricco dice noi la scuola la cambieremo. Gli europei la cambieranno in un numero non enorme di anni. Ne va della loro sopravvivenza. Questo è un sistema destinato a collassare. La pandemia ha dato una grandissima spallata. La prego, di questo non si parla nel suo libro, ma se vuole dirci qualcosa su questo argomento, le sei da egrata. La parola a Baricco. Grazie. Grazie delle belle parole. Grazie a Ilaria di questo invito che mi fa grande piacere. Sono contento di essere qua e mi piace avere la possibilità di riflettere un po' d'alta voce con voi su questo tema che ci sta tanto a cuore, che è questo della pandemia e più in generale di cosa accade al mondo alla luce di quello che ci è successo. Quella della DAD, gli insegnanti in sala alzino la mano. Perché poi purtroppo urto la suscettibilità e mi rendo conto e poi mi piange il cuore dopo. Ma veramente ho detto quella frase così dura? Magari c'era una virgola in mezzo. Proprio la cosa peggiore che abbiamo fatto. No, lì probabilmente stavo argomentando in maniera meno barbara, sono sicuro, però stavo cercando perché c'è molto da capire in come abbiamo reagito con la scuola e quando parlo della scuola parlo delle scuole primarie, secondarie, ma non in Italia, in Europa in generale. La DAD, secondo me, incarna veramente un certo tipo di movimento mentale. ecco, per cui la prendo come esempio e poi perché è una cosa che conoscono tutti che è entrata nel tessuto proprio quotidiano delle famiglie e quindi l'abbiamo vista da vicino. Non ci sono solo i professori, per ogni professore ci sono 30, 60, 80, 90 allievi, quindi 30, 60, 80, 90 famiglie, insomma c'è molta gente che ha visto accadere tutto questo. Io di solito la prendo come esempio di una forma di rigidità, di lentezza e di mancanza di elasticità del tipo di intelligenza con cui noi oggi ci gestiamo. Nella DAD c'è un tratto diciamo che su cui tutti si fermano soprattutto i professori che dicono ebbè siamo stati capaci di trasferire la scuola comunque in qualche modo di farla se no avremmo chiuso le scuole e basta invece in un tempo piuttosto rapido siamo riusciti a mettere comunque un computer davanti agli occhi dei nostri figli abbiamo fatto lezione che per molti professori è stato anche molto complicato perché provate a tenere una classe di 14 anni che è già difficile tenerla lì figuratevi da a distanza per cui effettivamente detto questo però la DAD ci rivela abbastanza come ci muoviamo noi quando incominciate a pensare come è stata usata e adesso non per dilungarci l'intera serata su questo tema qui che non vale la pena ma in un tratto capite veramente come siamo fatti cosa ha fatto la scuola ha trasferito in DAD cioè con uno strumento completamente diverso esattamente quello che stava insegnando fisicamente quello che doveva insegnare fisicamente quello che ha deciso di insegnare ogni anno fisicamente è evidente che questa mossa è destinata al fallimento perché quando tu cambi strumento cambi forma è evidente che ti porti dietro una modificazione anche del contenuto se voi trasferite un budino in una bottiglia auguri la bottiglia ha fatto un altro tipo di dolce cioè dovete automaticamente cambiare lì il cambiamento era talmente feroce tra una classe fisica dei corpi umani le ore la scuola e ognuno a casa sua con uno schermo che il primo riflesso doveva essere interrogarsi su ok lo strumento ce l'abbiamo e adesso cosa facciamo questa domanda cosa facciamo è molto interessante sapere come è stata affrontata ogni singolo insegnante o al meglio ogni singolo consiglio di istituto si è fatto due o tre domande come riuscire a però alla fine quel che abbiamo fatto cos'è stato ad esempio trasferire sei ore di scuola cinque sei ore di scuola trasferirle in dad che significa cinque sei ore di computer per un ragazzo ad esempio di quattordici anni lo stesso ragazzo qui fino al giorno prima abbiamo detto quante ore che sei davanti al computer videogame eccetera staccati da quella roba via le cose spegniti la cosa sei ore al mattino dalle otto perché anche anche l'ora di inizio non si è avuto nemmeno quel minimo di dire di brillantezza intellettuale di dire ok allora cosa facciamo si sono accorciate un po' le ore quando si è capito che questi ragazzini impazzivano ma ad esempio non si è pensato la cosa più ovvia cioè che se c'era un programma di latino quell'anno non era il caso di farlo è evidente hai quattro ore di latino ma non so spendine una a parlare con questi ragazzi a interrogare ad ascoltarli a fare latino in un altro modo no ma se tu invece dovevi fare la prima declinazione a gennaio la seconda declinazione a marzo e li fai a gennaio e a marzo la vedete la rigidità del sistema quando ho visto il mio figlio che faceva educazione fisica in dad ho pensato che c'era qualcosa che non andava lo vedete il sistema no e poi ci ho anche pensato ho detto guarda in fondo li avessero messi davanti al computer a fare piegamenti yoga purtroppo studiava il metacarpo perché capite la rigidità ma lo dico a scaso il professore non era stupido non era stupido la sua scuola non era stupido il suo preside non è intelligente il sistema perché comunque voi potete avere tutte le giustificazioni che volete avere una simpatia enorme nei confronti di tutti ma se il sistema produce un'ora di educazione fisica in dad in questo di metacarpo torno alla mia citazione e la capisco esagerata tutto quel che volete però adesso voi direte vabbè l'educazione fisica è una piccola cosa ma guardate lì voi vedete tutto il sistema l'interrogazione il compito in classica è chiaro che lì noi avremmo dovuto disporre di un sistema così flessibile che quando arriva la grandine lui sa come muoversi invece noi abbiamo un monolite nella scuola che conosce una sola modalità e già quella la vive con molta difficoltà quindi non può reagire a nessuna difficoltà d'altra parte è un sistema che il passaggio alla DAD non l'ha fatto perché disponeva dei suoi strumenti perché digitalmente parlando la scuola italiana ed europea è enormemente in ritardo se non c'erano quelli che avevano fatto zoom se non c'era google qualcuno sa dirmi come facevamo a fare la scuola ci avremmo messo due anni a digitalizzare tutto il sistema quindi anche questo trasferimento che è stato molto lodato come una prova veloce di sì ma non è stato partorito dal sistema scuola si è approfittato di tecnologie pressoché gratuite che nel tempo non sono state sviluppate del sistema scolastico che anzi era ancora le LIM le lavagne digitali una per ogni quattro classi capite? come siamo andati alla guerra così hanno mandato mio nonno a fare la prima guerra mondiale proprio analogamente e qui veniamo al tema che invece che volevo brevemente magari portare qui in questo bellissimo posto un tantino caldo no ma bellissimo poteva essere molto più caldo che è quello proprio di questo del tipo di intelligenza la DAD ci ha introdotto bene secondo me in questa cosa cioè gli umani hanno comunque un modo di stare al mondo e in quel modo di stare al mondo cercano sostanzialmente di risolvere problemi superare gli ostacoli che gli si pagano davanti e se cresce del tempo di cercare i sistemi per essere felici tutto il sistema che noi usiamo per ottenere questi risultati noi stasera lo chiameremo intelligenza non stiamo a formalizzarci troppo ma insomma intelligenza è un sistema che io trovo affascinantissimo e che è il complesso di abilità che noi abbiamo tipo fare 2 più 2 è 4 per dire capacità che abbiamo sentire che la cosa non vanno è proprio un sistema di molte cose i valori che abbiamo non uccidiamo per esempio mettete tutto questo insieme e chiamate questo intelligenza è sostanzialmente lo strumento con cui noi cerchiamo di vivere nel modo migliore la cosa che è estremamente affascinante bellissima è che gli umani nel corso della loro storia hanno cambiato sistemi di intelligenza noi non funzioniamo da sempre con una certa intelligenza l'abbiamo di volta in volta cambiata e permettetemi di aprire una piccola parentesi che mi diverte da morire che è una storia greca l'abbiamo sempre cambiata e da sempre noi disponiamo di diversi modelli di intelligenza e poi ne scegliamo uno nel mondo greco che per molti versi è la nostra culla e che per ragioni misteriose è effettivamente la matrice di moltissime delle cose che noi ancora oggi utilizziamo e di cui è fatta la nostra intelligenza nel mondo greco ad esempio c'è questa storia un pochino nascosta tra le righe dei testi sacri loro ma che tutti gli studiosi conoscono che è il confronto fra due personaggi i greci erano fantastici nel narrare i movimenti della mente fondendoli in storie di eroi personaggi in fumetti sostanzialmente e nel mondo greco diciamo quello dal mondo americo ottavo secolo fino al quinto secolo cioè fino all'avvento dei filosofi diciamo così l'idea di intelligenza era incarnata da due personaggi mitici uno lo conoscevamo molto bene ed era Odisseo che infatti ci viene iniziato anche a scuola e l'astuto ma loro erano molto sottili e ne avevano un altro che si chiamava Palamede che era il suo rivale in quanto a intelligenza c'erano quelli che erano rivali in quanto a forza in quanto a coraggio in quanto a bellezza e poi ce ne erano due che erano rivali in quanto a intelligenza erano i due geni diciamo dell'esercito archeo uno era Ulisse e uno era Palamede e cosa incarnavano questi due due tipi di intelligenza diversa proprio due sistemi possibili con cui cercare di vivere il mondo e i greci in questo modo loro narrativo fantastico la storia che ci hanno tramandato su questi due è la storia di due che si odiano i due che combattono e in maniera più o meno corretta si giocano cosa il primato è la decisione di che intelligenza prevarrà in quel tipo di società quella di Ulisse quella che poi noi abbiamo ereditato e che abbiamo idolatrato è finita anche in Dante per citare un tema d'attualità che è quella di Odisseo era un'intelligenza di tipo particolare non a caso in italiano viene tradotta come astuzia cioè era la furbizia dell'uomo che praticamente ereditava il sapere dei padri e disponendo di questo sapere e a lui fedele alle tradizioni ai principi eccetera ma disponendo di questo poi se la cavava con l'astuzia e risolveva i problemi della vita tra i quali ad esempio prendere la città di Troia con un cavallo eccetera eccetera Palamedi invece incarnava un'altra idea di sapere in realtà che cominciava a avvicinarsi a quella dei filosofi che era diversa che diceva sì vabbè ok guardi il cielo gli dei tutte però mi piacerebbe però controllare io allora metteva le mani sulle cose e diceva ma Palamedi è stato tramandato come un inventore della scrittura come un inventore del gioco degli scacchi come un inventore di alcuni trucchi numerici quindi c'è qualcosa che sborda perfino un po' nella scienza anche se la parola è impropria per il mondo greco ma era un tipo di intelligenza diciamo più laica ok non era furbizia ed era un po' questa capacità dell'uomo di capire le cose senza senza dover usare la coppia quel che ha detto Dio e quel che io con furbescamente riesco a trovare questo è Odisseo no invece un uomo capace di chinarsi sulle cose di misurarle ad esempio lui era tramandato come l'inventore delle misure del metro del chilo non si chiamavano così ma per dire cioè era uno che qui diceva ma qui ci sono no Toddi per so cioè contava era un uomo che contava Ulisse non contava Ulisse è un'altra cosa e vedete lo scontro cosa si scontrava lì cosa è che ci raccontavano i nostri padri in questa storia il fatto è che noi umani possiamo scegliere delle forme di intelligenza diverse per vivere meglio possibile il mondo nella storia greca quello che succede è che Ulisse furbo riesce a far accusare Palamede di tradimento mettendogli delle prove nella tenda come quando ti mettono a me no ma insomma nei film quando ti mettono la bustina di cocaina nella tasca uguale gli ha messo dei soldi nella tenda lo accusa di tradimento gli fanno un processo che lui non c'era nemmeno lo condannano e lo condannano a morte e lo uccidono i suoi compagni proprio di di battaglia e da lì in poi Palamede sarà poi memorizzato per secoli e secoli come l'innocente punito in maniera colpevole per sbaglio l'incarnazione dell'uomo punito ingiustamente però vince l'astuzia perché in quel mondo lì era effettivamente questa copiata di rispetto della tradizione il mito gli dei e di furbizia furbizia grande furbizia effettivamente era la loro e si dovette aspettare la generazione dei filosofi i primi i presocratici poi i socratici che ammazzarono anche lui a causa di questo per la resistenza proprio che invece poco a poco poi affermò un'altra forma di intelligenza questo per dirvi come noi umani abbiamo tra le altre tante cose che facciamo questa meravigliosa disfida continua tra modelli di intelligenza che spesso si incarnano anche proprio in eroi in personaggi se voi pensate allo scontro tra Galileo e la chiesa eh lì c'erano due cioè nessuno dei due era stupido sarebbe un errore pensare che il vescovo davanti a cui il papa davanti a cui Galileo dovette umiliarsi era stupido è ovvio che non lo era ma era portatore di una forma di intelligenza particolare e Galileo di un'altra Galileo arrivava troppo presto l'altro era una forma di intelligenza che era bella stabilita lì e quindi perse Galileo ai nostri occhi però è una forma di eroe no? sempre stato così e sempre e sempre continuerà ad esserlo e sono delle sfide d'altissimo livello feroci non scorre sangue se non nelle storie greche naturalmente però ancora a livello di Galileo scorreva sangue cioè ne hanno bruciati in questo confronto di forme di intelligenza al limite visto che parlo di bruciare il grande rogo in cui in un numero di anni nemmeno enorme abbiamo bruciato un numero incredibile di streghe nel nostro civilissimo continente anche lì non è che ci fosse uno cattivo uno buono uno intelligente uno stupido erano due forme di intelligenza alternative che si scontravano dico tutto questo di Palamede e Odisseo c'è una storia bellissima per farvi capire i due tipi quando hanno fatto la guerra di Troia Agamemnon ha convocato tutti i principi tutte le isole avevano un patto fra di loro è andato a chiamarli uno a uno perché arrivassero e partissero a combattere la guerra Ulisse che era astuto quando arrivarono gli ambasciatori di Agamemnon e si finse pazzo per non andare alla guerra e si finse pazzo in questo modo che poi i greci hanno questa questa fantasia narrativa fantastica si fece trovare sulla spiaggia della sua isola Ittaca che arava la sabbia proprio gridando spingeva sto coso sto arasolo proprio arrivarono sti messi elegantissimi e lui era là che spingeva che è ovvio che arare e seminare nella sabbia è la cosa più folle che puoi fare per cui simbolo e questi messi arrivarono lo videro e c'era nella scena c'era la moglie chiamiamola così di Odisseo la famosa Penelope e poi c'era una nutrice che teneva in braccio il bambino il figlio di Ulisse e l'ambasciatore di Agomeno ne prese questo bambino così tra le mani e lo posò sulla sabbia esattamente dritto all'aratro di Ulisse lui arrivava così prese il bambino e lo mese lì per terra e poi stette ad aspettare e Ulisse col suo aratro 3 metri 2 metri 1 metro 50 centimetri è arrivato a 30 centimetri si ferma prima di fare in due suo figlio e dice ok vengo alla guerra lascia l'aratro e se ne va e chi era l'ambasciatore di Agomenone che gli fece questo bel numero Palamede vedete come è uno scontro continuo proprio fra i due e in questo loro semplicemente memorizzavano le caratteristiche e i tratti delle due forme di intelligenza dico tutto questo perché alla luce della pandemia poi come ho scritto anche in questo in questo piccolo libro sono tantissime le cose affascinanti che voi potete in questo momento osservare legate a quello che ci è successo ce n'è una che mi affascina in modo particolare e la riassumerei così in questa esperienza qua noi stiamo sostanzialmente decidendo se vincerà Odisseo o Palamede stufi del fatto di vederli combattere da ormai troppo tempo traduco c'è una forma di intelligenza che è l'intelligenza ad esempio in cui sono cresciuto io la mia generazione e che è andata in crisi ha cominciato ad avere un Palamede che ha cominciato dal fastidio una trentina anni fa 30-40 anni fa questa nuova intelligenza ha avuto come fosse una battaglia una grande battaglia vinta con l'avvento del digitale perché il digitale è figlio veramente di una forma di intelligenza diversa e questo ha creato come una sorta di frizione in cui noi stiamo soffrendo perché metà del nostro mondo è figlio di una intelligenza che adesso vediamo di definire insomma che viene da dietro è metà del nostro mondo è figlia di un'intelligenza che invece è tutta davanti cioè ancora in parte da venire e comunque rappresenta il nostro futuro in questa specie di resistenza e di scontro noi a lungo abbiamo sofferto dato che l'assunto di questo libro è che noi ci siamo andati a cercare in qualche modo la pandemia ma potrebbe essere questo potrebbe essere un'altra cosa ma noi cercavamo un incidente come quelli sapete quelli che stanno insieme ma non c'è qualcosa che non va sapete quelle vite di coppia che poi lo sapete benissimo lo so che a un certo punto declinano e poi a un certo punto uno dei due cerca l'incidente cioè o si fa scoprire con l'amante oppure da un particolare trascurabile della sua vita fa nascere un casino perché cerchiamo l'incidente perché lo facciamo perché se non riusciamo a diciamo a trovare un equilibrio o a risolvere una frizione a un certo punto allora tanto vale andarsi a schiantare contro il muro qualcosa succederà e noi in tante cose ci siamo andati a schiantare contro il muro in questa forma della pandemia e una di queste cose sicuramente è che non ne potevamo più di questo contrasto di questo attrito tra queste due intelligenze guardate che detto così sembra molto teorico ma invece molto pratico prendete ad esempio i ragazzini un ragazzino che alle otto del mattino va a scuola lui sta a mollo in una intelligenza quella che viene da dietro in tutto e per tutto poi va a casa mangia accende il computer e lui sta a mollo in un'intelligenza che è in tutto e per tutto quella che deve venire sarà mica una vita facile la sua sarà mica che è un po' nervoso anche per quello e se lui è nervoso io sono nervoso e se io non sono nervoso i miei amici sono nervosi nella mia scuola sono nervose la mia fidanzata è nervosa è un filo ma pensate in quante situazioni noi da anni vivevamo questa frizione e alla lunga è meglio cercare l'incidente e andare a decidere che vinca uno dei due che Ulisse uccida Palamede a tradimento va bene ma si vive meglio se poi ci si accasa tranquillamente in una forma di intelligenza due parole su queste due intelligenze così come erano Odisseo e Palamede come le possiamo capire allora quella diciamo che ha prodotto me è una parte vedo sostanziosa di voi è un'intelligenza che noi abbiamo conosciuto all'inizio del suo declino ma che viene da lontano ricordatevi sempre che intelligenza significa un sistema complesso in cui metti insieme capacità del corpo della mente priorità valori gusto anche questo sistema di intelligenza che ha prodotto che ha prodotto noi e che ci ha formato e ci ha educato ad esempio a scuola è un sistema che probabilmente diciamo si può far nascere a cavallo fra 7-800 quindi pensate quanti anni ha è anche giusto che sia andato in crisi e forse diciamo che la sua culla è stato lo scontro tra illuminismo e romanticismo è stato uno dei scontri più belli nella storia della cultura degli umani è avvenuto nel nostro continente quindi pensate come ne siamo segnati e in questa diciamo in questo rimbalzo fra due modi di stare al mondo che erano molto diversi illuminismo e romanticismo quello che ne è nato alla fine di questo scontro è una forma di intelligenza che ha avuto probabilmente l'epoca del suo trionfo nell'ottocento non a caso anche la grande stagione della nascita della fiducia nella scienza non dico nella scienza perché il problema è più complesso qui l'aria potrebbe dire la lunga ma nel fatto che proprio la comunità ha riconosciuto in questi in quel modo di procedere diciamo una possibilità di gestire il mondo ma poi di mezzo c'è tutto c'è l'avvento della borghesia c'è la rivoluzione industriale c'è l'imperialismo c'è tutto diciamo che questa intelligenza qua che è uscita dalla fornace dello scontro fra il lumismo e il romanticismo ha prodotto effettivamente una formula in cui noi abbiamo creduto molto fortemente che nell'ottocento ha avuto come fosse una sorta di di epoca dello splendore e nel novecento ha avuto una sorta di vertiginosa moltiplicazione in basso e in alto cioè sia nelle meraviglie che riusciva a produrre sia nei disastri che riusciva a produrre se voi pensate a tutte le scoperte scientifiche che sono state fatte nel novecento che sono figlie di questo tipo di pressione nel mondo di questo tipo di intelligenza mettetele su un piatto mettete sull'altro due guerre mondiali una guerra fredda la prima bomba atomica cioè la prima arma mai creata dagli umani capace di distruggere tutti gli umani mettete queste due cose su due piatti e vedete questa intelligenza era capace di produrre con grandissima potenza risultati molto diversi ma sono coerenti però non dovete pensare che l'hanno sbagliato e che l'hanno fatto giusto no in realtà guardate la cultura altissima europea che ha prodotto le due guerre mondiali era davvero il livello di quei popoli popolo tedesco popolo francese il livello dei loro leader di tutti i tipi della loro intelligenza dei loro artisti era altissimo c'era proprio una forma di intelligenza che però aveva dentro la possibilità se non guardate l'inesorabilità di produrre il disastro era era quello che è successo pochi profetti già nel novecento capirono che c'era la crepa e che avremmo dovuto molto velocemente venire fuori da quel tipo di intelligenza ma non furono ascoltati più di tanto e il novecento di fatto almeno ai miei occhi è veramente la immana esibizione tragica meravigliosa spettacolare di questo tipo di intelligenza nell'epoca del suo trionfo folle quasi della sua illusione quasi di quasi di onnipotenza il novecento è stato forse il secolo di maggiore sofferenza per gli europei nella loro storia forse la guerra dei trent'anni ha coinciso con un periodo di simile sofferenza però probabilmente è veramente il secolo orribile della storia del nostro continente e non solo e diciamo che il trascinamento di sofferenza di memoria di dolore è stata immensa ci sono almeno tre generazioni di europei che sono stati segnati profondamente dall'orrore da diversi livelli ma se pensate a tutto quello che è successo e le forme di intelligenza non sopravvivono a questi shock e gli umani giustamente quando si trovano a vivere questi passaggi di eccesso di sofferenza di dolore corrono ai ripari e cosa fanno? un gesto istintivo cioè cercano un'alternativa e la cercano soprattutto là cioè cercano palamede dopo che Ulisse li ha portati al disastro cioè cercano di far ruotare qualcosa in modo di poter disporre di un'arma di un'intelligenza che non sia più quella che ha devastato le loro vite ed è quello che è successo in maniera spontanea abbastanza non drammatica senza scorrimento di sangue con l'avvento del digitale che è una tecnologia ma come ho cercato di spiegare in the game non è una tecnologia che ha prodotto poi dei cambiamenti nel nostro modo di pensare è la tecnologia che è il frutto di un diverso modo di pensare il telefonino è stato inventato da gente che aveva un certo cervello un certo modo di stare al mondo diverso dai suoi padri e ha creato un device che il telefonino ad esempio che a sua volta certamente poi crea forma allestisce uomini diversi ma il telefonino di per sé non è che si è spargato il cielo è sceso un dio e ci ha dato il telefonino no è il frutto di umani che avevano proprio problemi differenti e idea di soluzioni differenti e questo ha portato proprio dentro la nostra vita quotidiana un'intelligenza nuova che è l'intelligenza che potremmo dirci ci spetta in questo momento e quando voi pensate cioè pensate cosa deve essere passare da un modello di intelligenza vecchio di due secoli almeno e che ha prodotto delle meraviglie pazzesche dei risultati enormi no e pensate che fatica deve essere per noi adesso passare abbandonarla e passare a un'altra forma di intelligenza voi non dovete mai dimenticare che noi tutti stiamo vivendo un momento di trasformazione immenso e quindi siamo stanchi siamo stanchi siamo elettrizzati siamo eccitati siamo un po' andiamo un po' a fasi come tutti quelli che stanno no che stanno come quello che si sta per sposare come quello che sta per cambiare città come quello che è finito l'ospedale cioè sono trasiezioni di fasi violente e insomma ci lasci dentro moltissimo no non necessariamente solo dolore o sofferenza perché come è successo nella pandemia quante cose belle abbiamo scoperto pur nel tessuto di una cosa di una cosa drammatica come quella però sono davvero sono cose faticose stressanti noi siamo una società stressata e quando uno è stressato che fa si ammala cioè capite che nel cuore di questa rotazione nel cuore dell'eccitazione della fascinazione della voglia della paura continuamente ti svegli ogni giorno hai voglia di una cosa e paura voglia paura voglia paura voglia paura attratto dà ma spaventato dà sei mezzo vecchio mezzo nuovo c'è mezzo di te che vuole tornare indietro mezzo di te che vuole andare avanti tutto questo e cosa può provocare se non una specie di debolezza proprio del corpo e noi splendidamente come i greci avevano splendidamente incarnato in Ulisse e Palamede una cosa così sottile come una lotta di intelligenza e noi l'abbiamo in maniera fantastica interiorizzato in una forma di malattia globale c'è proprio non sto proprio bene c'è proprio sottopressione ma poi la pandemia è incredibile perché sembra disegnata da uno sceneggiatore di genio però questo fatto che fosse anche un male è un male che colpisce da subito sembra banale ma non lo è da subito i più deboli cioè quelli che hanno il più anziano quello che già non stava bene cioè come come dire guarda sto facendo una cosa talmente difficile che adesso cioè devo usare la parte del mio corpo quella che è in grado di farlo l'altra la posso anche eventualmente sacrificare dico queste cose e mi rendo conto che sono atroci perché poi uno ha perso la nonna è atroce ma se voi salite molto in alto e vedete il movimento degli umani gli umani sono un gruppo di animali geniali che si muovono e la trovate spesso una logica o delle figure proprio narrative che sono fantastiche e voi se avete la possibilità la voglia di tirarvi un po' su e guardare la pandemia dall'alto ci vedete proprio ci vedete proprio una figura ci vedete un branco ci vedete un tipo di animale lui come si muove come è fatto e ci sono diverse cose dentro questa pandemia una che abbiamo scritto è questa e la resumerei così abbiamo scritto lì dentro stavamo lì a soffrire veramente tanto di una strana sofferenza perché stavamo decidendosi a passare da una forma di intelligenza a un'altra e in questa esperienza durissima noi troveremo da che parte vogliamo cascare se indietro o avanti ed è quello che succederà quando ho chiesto a Ilaria ma di cosa ti piacerebbe di cosa ti piacerebbe parlare questa sera e lei come tutte le persone che io amo ha detto del futuro perfetto il futuro è questo una delle cose che accadrà nel futuro voglio dire proprio negli anni che ci aspettano è che decideremo e che decideremo decideremo da che parte vogliamo cascare che decideremo se l'intelligenza nuova ci ha convinto se è la nostra la modificheremo un po' perché la nuova intelligenza non può essere semplicemente quella digitale che non basta probabilmente la arricchiremo di cose e ci proveremo oppure decisamente torneremo indietro e abbandoneremo questa cosa e ci andremo a rincantucciare nell'intelligenza che da sempre conosciamo guardate che non è un problema sembra un problema filosofico teorico diciamo beh sei molto raffinato però adesso torno a vivere no perché la dad è figlia di questa resistenza qua lo vedete proprio in azione la ferita un computer e un sistema e appartengono a due intelligenti diverse l'insegnante di greco e il mac lo mettete lì di fianco e poi in mezzo ci mettete uno studente pensate che aria che tira in quel punto lì ed è un'aria che ti sveglia ma anche che ti abbatta ma è un posto scomodo stare lì in mezzo e però c'è questo per questo uso la dad e ne parlo volentieri perché è un punto più visibile ma ce ne sono moltissimi nella nostra vita ce ne sono moltissimi qui adesso ascoltiamo musica qui ci sono molte persone che amano la musica classica ecco immaginatevi adesso la corrente che c'è lì in mezzo se abbiamo la musica classica che è stata che ha coinciso la storia della musica classica coincide proprio con la storia di questa intelligenza quella da cui veniamo praticamente sono cresciuti insieme hanno trionfato insieme sono impazzite insieme che ci pensate quindi non c'è niente quasi come la musica classica che incarna quella intelligenza lì e allora adesso che ne sarà della musica classica cioè quando arriva Palamede cosa succede e se pensate alla pandemia ad esempio la pandemia cosa ha fatto ha preso Ulisse e l'ha chiuso in casa cioè non esci cioè gli ha proprio ammortizzato una delle cose più forti che aveva il suono l'artista e allora cosa si è successo tutti a fare anche Gloria faceva le cose streaming attraverso il computer ok e poi mi telefonavano i miei amici musicisti mi dicevano ma io non so io lo faccio ma che senso ha cioè io ho studiato tutta una vita per un'arcata del violoncello così e adesso l'MP3 c'è una qualità di suono capite ma c'è che senso domande grosse no e tutti stavano nello stesso problema Ulisse Palamede tutti stavano come mio figlio a quattordicenni a metà tra la professoressa di greco e il Mec e tutti tiravano un'aria bestiale e quello che veramente non so è come ne usciremo cioè è difficile oggi dire davvero chi vincerà fra i due è molto difficile io per un esempio quando ho scritto The Game ero convinto che saremmo scivolati abbastanza velocemente verso la nuova intelligenza e boh non se ne parlava più e adesso se me lo chiedete veramente sapete che non so non so come finirà certamente se torniamo indietro sarà un lutto tremendo non so come non so come l'aggiusteremo mi sembra più verosimile che andremo poi veramente tutti verso una nuova forma di intelligenza però ecco è un cammino molto più spinoso di quanto pensassi siamo lenti siamo indecisi facciamo un errore cioè stiamo lasciando decidere quali delle due intelligenze scegliere lo stiamo facendo decidere dai vecchi che è un enorme errore siamo un tipo di società in cui purtroppo diciamo così è sparita questa missione dei giovani di rivoltare il mondo non so se avete notato che i giovani oggi fanno molte cose ma una che non fanno è rinegoziare le condizioni della vita che era la condizione la missione prima di tutte le generazioni dei giovani cioè andare entrare mettersi al tavolo e rinegoziare le condizioni per cui essere vivi o morti e questi giovani sono stranissimi non fanno sostanzialmente questo e quindi noi ci troviamo nella situazione piuttosto paradossale di lasciare decidere a gente troppo vecchia ma mi ci metto in mezzo una cosa che invece riguarderà generazioni future e questo ci complica molto la vita e non so come siamo finiti lì ma è andata così quindi non so veramente come finirà però trovo che è molto importante sapere che questo è la cosa che sta succedendo in modo che voi la riconosciate e io la riconosca nelle grandi cose nei sistemi la politica la filosofia come stiamo al mondo la morale ma poi anche nella dad vostro figlio il circolo della boccia cioè a tutti i livelli perché sono lì davanti uno all'altro Palamedè e Odisseo si stanno guardando dagli occhi non ne possono più di questo duello noi non ne possiamo veramente più e non riescono a uscire vediamo se la pandemia con questo shock ci stacca da lì e ci porta in un posto in cui si riusciamo a vivere un pochino meglio beh mi siete stati ad ascoltare proprio bene grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti